Momenti di paura ieri sera nel centro di Vittoria, preso dal Raptus, tenta ad aggredire l'ex compagna davanti le figlie, notati gli agenti, si scaglia anche contro di loro. Aeroporto di Comiso, Fidrestrada Ragusa-Catania, Autostrada, Rosolini-Modica, tre grandi infrastrutture lanciano l'SOS per la 514, oggi enesima riunione, Precipe. Aeroporto di Comiso, Modica, anche a Ragusa, ecco apparire le prime luci fredde a LED nel centro storico superiore, anche in questo caso monta la protesta e si invita il sindaco a fare marcia indietro. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Santa Croce e Camerina da oggi pienamente operativa o con 24 unità, ieri l'inaugurazione con la cerimonia e la consegna delle chiavi. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG 74, apriamo con la cronaca, ennesima grave lite tra le mura domestiche consumata ieri sera a Vittoria, preso dal raptus di scaglia contro l'ex compagna davanti le figlie. Fortunatamente il tempestivo intervento degli agenti di polizia, rimasti anche loro feriti, ha evitato conseguenze, bene più gravi i dettagli nel servizio. Momenti di paura ieri sera nel centro cittadino di Vittoria per una lite familiare che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Una pattuglia del commissariato di polizia è intervenuta in un'abitazione per una segnalazione da parte di alcuni cittadini allarmati dalle urla e le grida che provenivano da una vicina abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un romeno di 25 anni conosciuto dalle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia in prossimità del portone d'ingresso. L'uomo, molto agitato, stava forzando la porta d'ingresso dell'abitazione della sua ex compagna. In preda all'ira è riuscito ad entrare all'interno della casa dove, alla presenza delle figlie minori, ha tentato di aggredire la donna. Solo l'intervento dei poliziotti ha impedito il peggio. Gli agenti nel tentativo di bloccare l'uomo sono stati violentemente aggrediti a testate e pugni. A questo punto, con non poca difficoltà, l'aggressore è stato bloccato dagli operatori e arrestato per esistenza pubblico ufficiale e lesioni. Entrambi gli agenti, a causa dell'aggressione subita, hanno riportato lesioni guaribili in sei giorni. E proprio oggi, mentre a Roma torna in discussione alle pre-Cipe, il raddoppio della Ragusa-Catania. La CNA rompe il silenzio e richiama all'attenzione pubblica le tre grandi infrastrutture dimenticate nel territorio ibleo. Oltre la Ragusa-Catania, anche l'autostrada Modica-Rosolini e l'aeroporto di Comiso. Quale futuro per le infrastrutture iblee? La CNA territoriale di Ragusa, con una nota, intende ancora una volta prendere posizione per richiamare l'attenzione sulle tre grandi questioni infrastrutturali che interessano la realtà socio-economica iblea. L'aeroporto di Comiso, la superstrada Ragusa-Catania e l'autostrada Rosolini-Modica. Per quanto riguarda l'aeroporto di Comiso, secondo la CNA, è inaccettabile il profondo divario che si è ormai determinato tra la situazione sempre più difficile e precaria dell'operatività dello scalo e l'assoluta inattività di chi dovrebbe seriamente occuparsi del suo sviluppo. Da mesi, se non da anni, i vertici gestionali dell'aeroporto continuano a lanciare proclami promettendo azioni immediate e concrete finalizzate ad invertire l'andamento negativo. In verità si continua ad assistere giorno dopo giorno solo a un'inesorabile riduzione dei voli e a una conseguente drastica diminuizione del numero dei passeggeri in arrivo e in partenza. Anche a giugno i primi dati parlano di un terzo in meno rispetto allo stesso mese del 2018. A questo punto si legge nel documento dell'organizzazione per l'artigianato e le imprese è arrivato il momento di dire basta alle parole vuote e non seguite dai fatti. Chiediamo formalmente a chi di competenza, a partire dalla SAC e dal sindaco di Comiso, di scoprire le carte e di dichiarare pubblicamente e con chiarezza cosa si sta facendo per rilanciare l'aeroporto alla fine di fermarne la lenta agonia. E riguardo l'annoso problema della Ragusa-Catania, oggi si riunisce il pre-Cipe e giovedì 11 il Cipe. Inaccettabile a questo punto un ulteriore rinvio delle decisioni. Secondo la CNA la scelta possibile è o quella di portare a conclusione l'iter del project financing avviato da anni oppure quella di intraprendere con decisione e celerità la strada dell'intervento totalmente pubblico. Se così non dovesse essere la CNA Iblea preannuncia sin da adesso un'iniziativa di protesta eclatante che non si limiterà più una civile manifestazione dopo la quale tutto continua ad essere come prima. Sotto analisi anche i lavori della Rosolini Modica che anche se ancora lentamente sono ripresi da qualche mese dopo un'interruzione di quasi due anni la CNA auspica che da qui a qualche settimana agli stessi possa essere impressa una forte accelerazione in modo da rispettare la tabella di marcia e di arrivare all'apertura del tratto autostradale in un arco di tempo abbastanza limitato. Ma rimane aperta la questione delle spettanze alle imprese subappaltatrici e fornitrici che hanno dovuto rinunciare alla metà di quanto maturato a seguito dell'interruzione dei lavori dovuta al default di condotte spa. Un provvedimento ingiusto dopo che con il decreto crescita in casi analoghi sparsi in Italia per le piccole imprese è stata trovata una soluzione che salvaguarda le spettanze maturate. Anche Confesercenti Ragusa interviene in merito all'aeroporto di Comiso e in particolare ai bandi per le tratte aeree di cui si è persa ogni traccia sorprende, afferma il presidente Confesercenti Luigi Marchi che a distanza di mesi la governance di Soaco non dia segnali in questo senso vi sono 15 milioni di euro bloccati compresi quasi 2 milioni dei fondi ex Insicem stanziati dall'ex provincia di Ragusa per Marchi si tratta di un flop dei bandi di gara fatti per incentivare le rotte aeree per l'aeroporto Piola Torre Cambiamo argomento i dipendenti della Servizio Ipermodica giunti a 5 mesi di stipendi arretrati non pagati ieri la problematica è stata affrontata direttamente in prefettura a Ragusa Il caso degli stipendi non pagati ai dipendenti della Servizio Ipermodica termina sulla scrivania del prefetto di Ragusa, Filippina Cucuzza così come aveva accennato la Camera del Lavoro di Modica per voce del segretario Funzione Pubblica Salvatore Terranova ieri pomeriggio la problematica è stata dibattuta nella sede della Prefettura al centro dell'incontro il mancato pagamento da parte dell'SPM degli emonumenti ai lavoratori che vantano 5 mesi di arretrato all'incontro presieduto dal capo di gabinetto Barbaro hanno partecipato il Vice Sindaco nonché Assessore alle partecipate Rosario Viola, l'amministratore unico della società Guastella il segretario della Camera del Lavoro Salvatore Terranova e il segretario provinciale del CUB Trasporti Giuseppe Gurrieri rispetto alla richiesta della CGL di avviare una pianificazione al fine di determinare il rientro dei 5 mesi di stipendio già maturati l'assessore Viola ha assunto l'impegno di emettere entro i prossimi 20 giorni mandato per il pagamento di una fattura alla società con cui la stessa dovrebbe pagare un altro stipendio ovvero quello di marzo impegno che però sembra non aver soddisfatto il sindacato pensiamo, ha affermato Salvatore Terranova che pagare un altro mese di stipendio è come non assumere in realtà alcun impegno l'impegno dell'assessore continua Terranova significa che non ci sarà nessun recupero del pregresso e che la società viaggerà sempre con un debito di 4 mesi nei confronti dei propri dipendenti l'amministrazione, conclude l'esponente della CGL non intende pianificare con le parti sindacali le modalità di recupero degli stipendi pregressi facendo persistere ritardi che si sono fatti ormai intollerabili e che equivalgono a lasciare i dipendenti ancora per molti mesi in serie difficoltà non senza critiche appaiono anche a Ragusa superiore le prime luci fredde a LED così come già visto a Modica adesso accade anche a Ragusa e anche in questo caso ecco le prime polemiche sentite la logica del risparmio per forza sta abbruttendo i centri storici delle nostre cittadine barocche è accaduto a Modica dove la circostanza dell'installazione delle lampade a LED con colore freddo e al centro di polemiche infinite da giorni sta accadendo anche a Ragusa dove in Piazza San Giovanni nel cuore del centro storico superiore l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cassì ha fatto la stessa scelta ovvio anche in questo caso per risparmiare l'effetto però è da bocciare senza sé e senza ma lo dice il consigliere comunale Mario D'Asta che mette in rilievo come questa circostanza non vada bene per niente anzi continua è un'ipotesi di lavoro che osservando le prime lampade a LED già installate non ci sta bene per niente proprio perché deturpa il paesaggio serale con una luce forte e bianca che nulla ha a che vedere con la valorizzazione dei nostri monumenti barocchi che invece risaltano meglio con una luce calda e meno invadente da notare come anche in questo caso così come è accaduto a Modica restano zone illuminate con luce calda gialle e zone già con i nuovi LED a luce fredda il tutto rende la visuale ancora meno gradevole e confusa a farne le spese ancora una volta il panorama generale tanto apprezzato dai turisti per avvicinarsi tanto all'idea di un suggestivo presepe serale l'opposizione quindi alla vista dei primi LED si schiera subito contro la scelta dell'amministrazione chiedendo di compiere una doverosa e repentina marcia indietro senza commettere gli stessi errori che si sono visti nella vicina Modica dove tra l'altro è stata giorni addietro avviata anche una petizione popolare con oltre 2000 firme sempre a Ragusa per parlare della recente polemica riguardo la tassa sui rifiuti la Tari secondo un recente sondaggio Ragusa sarebbe tra i comuni italiani che fanno pagare di più sentite 430 euro circa il costo della tassa sui rifiuti che a Ragusa una famiglia di 4 persone deve pagare in una casa di circa 80 metri quadrati una cifra eccessiva che colloca Ragusa agli ultimi posti in Italia riguardo pressione fiscale e soprattutto Tari tale classifica pubblicata domenica scorsa sul quotidiano Repubblica ha immediatamente sollevato le critiche da parte dell'opposizione e nello specifico del segretario cittadino del Partito Democratico Peppe Calabrese che commenta finalmente Ragusa conquista un posto in una top 10 con altri capoluoghi di provincia peccato che questa volta si tratta della classifica delle città con i costi più alti per la tassa sui rifiuti la cosiddetta Tari una pressione fiscale enorme se si considera che la media nazionale è di appena 300 euro avevamo già detto la nostra a proposito di tasse comunali quando la settimana scorsa abbiamo fatto il punto di un anno di amministrazione Cassì e non ci siamo sbagliati l'assessore Iacono Continua Calabrese aveva illuso i ragusani dicendo che le tasse a Ragusa finalmente erano calate e precisamente la Tari e persino la Tosap su quest'ultima poi abbiamo rilevato come sia impossibile diminuire una tassa che non è stata istituita infatti l'anno scorso costava zero mentre quest'anno è stata reintrodotta il quotidiano Repubblica che ha pubblicato la classifica conclude Calabrese ci fa sorgere spontanea una domanda se è vero che abbiamo raggiunto il 70% di raccolta differenziata come mai non riduciamo la Tari a livelli di città virtuose come Potenza che nell'ultimo anno ha ridotto la tassa del 45,2% o è falso il dato della differenziata Ragusa oppure i conti non tornano sui costi a carico dei ragusani il capogruppo del PD Mario Chiavola si chiede che fine ha fatto la commissione centri storici al comune di Ragusa sinceramente non si capisce la ragione per cui continua Chiavola non si decida la convocazione della commissione risanamento dei centri storici è assolutamente strano quello che sta accadendo come se ci fosse la volontà politica da parte della maggioranza di penalizzare questo organismo consigliare questo accade soprattutto perché l'amministrazione comunale non riesce a produrre atti commenta Chiavola che abbiano una commissione dei centri storici di cui si sono perse letteralmente le tracce come se non esistesse dispiace davvero perché non si può pensare di azzerare così gli organismi di verifica e consultazione così come lo stesso sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone aveva annunciato ai microfoni di TG 74 il distaccamento dei vigili del fuoco da questa mattina è operativo al 100% ieri l'inaugurazione e oggi la presa in servizio con 24 unità guardate detto fatto così come aveva promesso il sindaco di Santa Croce Giovanni Barone il distaccamento dei vigili del fuoco a Santa Croce Camerina da ieri è stato consegnato ai vigili del fuoco da oggi invece è entrato in funzione al 100% con 24 unità di volontari che si alterneranno per garantire la massima operatività ad affiancare tali unità in un primo periodo sarà il personale specializzato della vecchia squadra operativa che aveva sospeso le attività nel 2017 per scelte di carriera e inquadramento le new entry compresi gli otto autisti sono reduci da un importante periodo di formazione e addestramento presso il comando provinciale ieri una cerimonia sobria dove sia il comandante provinciale Aldo Comella e il sindaco Giovanni Barone hanno accennato un breve discorso sottolineando anche l'importanza di questo distaccamento ringrazio il sindaco di Santa Croce ha affermato il comandante per aver creduto alla riapertura di questo presidio volontario ma anche tutti i ragazzi che hanno scelto di sacrificare un pezzo della propria vita senza alcuna ricompensa economica per prestare un servizio a favore della collettività noi abbiamo delle squadre operative a Ragusa Modica e Vittoria questa zona necessitava di una copertura i motivi sono gli stessi che ci hanno spinto a inaugurare il distaccamento nel 2010 il comune di Santa Croce soprattutto d'estate e il fulcro dell'attività turistica e la città di Santa Croce che ringrazia il comando dei vigili del fuoco di Ragusa gli ha fatto eco il sindaco Giovanni Barone in questi due anni sarebbe stato facile chiudere tutto e metterci una pietra sopra invece no pensavamo che il presidio fosse di vitale importanza per la nostra comunità e l'abbiamo ottenuto il distaccamento sarà attivo H24 restiamo sempre a Santa Croce perché dopo un mese dall'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta si conoscono già i primi dati ufficiali la ditta ha comunicato un incoraggiante 65% di giugno la città era ferma al 45% di maggio sentite dal 43% di aprile al 45% di maggio per finire oltre il 65% e il balzo in avanti registrato nel comune di Santa Croce in merito agli ultimi dati di giugno sulla raccolta differenziata porta a porta a dare ufficialità alla notizia c'è la ditta di Genurbana di Santa Croce la Ecoseib che avendo analizzato i dati relativi al primo mese di lavoro comunica il raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata così come previsto dalla legislazione vigente per il primo cittadino Giovanni Barone si tratta di una operazione di bonifica cittadina storica oltre il porta a porta tonnellate di rifiuti sono state tolte in questi giorni dalle strade cittadine premesso che le percentuali relative e mesi precedenti in cui non era previsto il servizio porta a porta anche nelle frazioni marinare avevano un trend stabilizzato intorno al 45% il risultato raggiunto già sin dal primo mese di lavoro è sicuramente motivo di grande soddisfazione tale risultato commenta la ditta deve essere considerato un punto di partenza in quanto gli obiettivi che si sono prefissati vanno al di là di questo 65% raggiungibili solo dalla interazione delle tre componenti basilari cittadini comune con controlli e supporto agli utenti e ditta incaricata alla raccolta infine l'azienda esprime un particolare ringraziamento all'amministrazione comunale tutta in modo particolare al sindaco per la sensibilità mostrata e lo spirito di grande collaborazione preme sottolineare che il dato del 65% riveste un'importanza particolare valutato il periodo estivo in cui sono stati eliminati completamente i cassonetti stradali anche nelle frazioni marinare in cui già da adesso insistono parecchi turisti e residenti estivi ed i locali sono già nel pieno delle loro attività prima di salutarci ancora una notizia sono rientrate da Roseto degli Abruzzi le ragazze dell'under 14 della basket passa l'acqua che lo scorso fine settimana hanno conquistato uno storico terzo posto alle finali nazionali un risultato commenta la società entusiasmante prestigioso e anche ricco di significato quello portato a casa dalla squadra allenata da Ivan Baglieri e Gianni Lambruschi è stato un risultato storico commenta Baglieri non eravamo mai arrivati terzi abbiamo fatto tesoro dell'esperienza che ci dava ogni partita bene questo è tutto non ci sono aggiornamenti appuntamento con le prossime edizioni grazie arrivederci grazie a tutti Grazie.